ciao amici di facebook buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti allora io ho appena fatto un video nel nel mio team nel gruppo del mio team per spiegare alle persone come generare clienti da altri clienti ok perché il network marketing si basa sul passaparola e una cosa che io ho notato è che noi andiamo sempre a cercare nuove persone nuovi clienti e li andiamo a cercare direttamente siamo noi a andare a contattare magari persone con cui non abbiamo mai parlato o qualsiasi tipo di persona magari tramite pubblicità qualsiasi tipo di contatto ma spesso ci dimentichiamo di che cosa di quei contatti che già abbiamo in casa ok ci dimentichiamo dei contatti quali dei contatti delle nostre clienti e come facciamo ad andare a chiedere delle referenze quindi altre persone che potrebbero essere interessati ai nostri prodotti al nostro programma punto numero uno punto numero uno è quello di superare le aspettative del cliente quindi significa trattarla trattarlo con i guanti trattarlo nel modo trattarlo nel modo giusto fare di tutto affinché la persona raggiunga i risultati per cui ha deciso di far di utilizzare i nostri prodotti ok la persona noi dobbiamo fare tutte le cose che sono in nostro possesso tutte le cose che veramente possiamo fare per far raggiungere i risultati alla persona punto numero due rapportarsi con la persona come un essere umano quindi essere gentili e fare amicizia conoscersi diventare amica della persona a questo punto potremmo chiedere o che se conosce a un'altra persona che è interessata al programma se noi saltiamo i primi punti sia quello non gli facciamo ottenere risultati oppure non facciamo amicizia al cento per cento la persona non ci dirà nemmeno un nome di una persona che potrebbe essere interessata se invece utilizziamo bene i secondi punti e il terzo punto magari utilizziamo anche delle domande costruiamo anche un piccolo nel gergo della comunicazione si chiama campo affermativo quindi far dire sì alla persona un paio di volte per esempio ti trovi bene con i nostri prodotti i nostri prodotti hanno soddisfatto le tue aspettative e la persona si è soddisfatta dirà di sì a questo punto ti vengono in mente alcune persone alcune amiche alcuni cari amici amici che potrebbero beneficiare di questo prodotto di questo servizio se la persona a quel punto ci dice di sì verrà in mente delle delle persone e noi avremmo ottenuto altri clienti avremmo con un ottenuto altre persone con cui parlare e a cui presentare il nostro programma i nostri prodotti e i nostri servizi voglio ricordarvi che questa è l'essenza del network marketing quindi avere sempre contatti il più possibile caldi a disposizione se si parte dai contatti freddi ma se ci sono i contatti caldi degli a delle altre persone è ancora meglio io mi auguro che questo video ti sia stato d'aiuto chiudiamo velocemente la diretta così mandiamo tutti a lavorare se il video ti è piaciuto condividilo con le persone del tuo team tagga le persone qua sotto ci vediamo al prossimo video un grande abbraccio a tutti